Ciao ragazzi e ben arrivati o bentornati qualora voi fosse già iscritti al canale questo è il mio piccolo spazio sul web io sono Geroz, un nerd come tanti voi che ha cominciato in un lontano passato attraverso i forum, che ha un po' abbandonato a tratti che si è buttato nella scrittura di articoli per il sito Nintendon e che poi causa vita, impegni, lavoro, università ha dovuto ancora una volta abbandonare le sue passioni ma per fortuna dopo che tutto questo si è stabilizzato dopo che si è cominciati a lavorare a pieno regime è tornata quella sana voglia di condividere con tutti voi le mie passioni e quindi ecco che ho aperto un canale se volete maggiori dettagli abbiamo proprio il primo video di presentazione ed il secondo ve li metto qui sotto in descrizione in cui potrete vedere un po' qualche dettaglio in più sul mio passato ed anche quanto si è migliorati almeno a livello di strumentazione di elementi tecnici quantomeno quindi illuminazioni, microfono e così via ma lo scopo di una presentazione del canale è appunto presentare il canale quindi di che mi occupo o ci occupiamo quando c'è anche Black su questo canale? allora le cose principali che porto avanti sono semplicemente film, serie tv, videogiochi e giochi da tavolo fondamentalmente tutte le mie passioni perché da sempre sento il bisogno, la voglia di chiacchierare di queste cose di condividere, di stare per ore e ore a parlare di quel vecchio gioco per NES ti ricordi oddio che emozioni quando poi tutto questo crescendo è diventato voglia di comunicare in modo sempre più complesso in modo sempre più discorsivo anche se sempre molto pagato se state cercando una di quelle pagine in cui i youtuber strillano e fanno dissing difficilmente lo vedrete anche se con qualche film ogni tanto mi è capitato di farne un po' ma quello perché il film magari non meritava altro ma nel dettaglio come funziona la calendarizzazione? nella parte settimanale il lunedì e il venerdì cerco sempre di far avere due let's play due let's play diversi, lunedì insieme a Black la ragazza che potrete vedere in vari video, la mia ragazza ed invece il venerdì arrivano i let's play in solo in cui solitamente cerco di lanciarmi in qualcosa di importante o in qualche gioco che magari non ho avuto ancora modo di giocare in questo periodo per esempio sto giocando molto i God of War che ho portato e continuerò a portare quindi tutta la saga e così via ne trovate tantissimi i let's play hanno anche lo scopo e lo dico con candore perché qui insomma nessuno nasconde niente di portare del contenuto in modo costante per chi volesse seguire un canale attivo insomma che parla di videogiochi e che vive in realtà i videogiochi e che quindi li giochiamo assieme, facciamo una sorta di blind ma lo facciamo proprio con lo scopo di condividere con voi le emozioni che quel gioco ci sta dando o le sensazioni o le riflessioni che scatena in noi e insomma di giocare con voi in qualche modo quello è il motivo per cui nascono i let's play il mercoledì trovate o ancora una volta cercate di trovare la calendarizzazione io cerco di rispettarla ma non è sempre detto che ci riesca perché l'impegno della vita e del lavoro è sempre grosso ma dicevo il mercoledì cerco di portare la guida per The Legend of Zelda Breath of the Wild non tanto perché ormai serva ancora una guida anche se ci sono alcuni che le seguono tutte le puntate da sempre prima c'è stato un grande let's play che è durato tantissimo su questo canale proprio perché Zelda è il gioco forse per me più importante a livello proprio della mia formazione come videogiocatore e come nerd quindi per cui quando è uscito questo Zelda che rivoluzionava tantissimi elementi e che ci dava un mondo così vasto ho sentito proprio la voglia insieme a Black di tuffarci dentro e vederlo nel dettaglio e abbiamo cominciato così quasi per gioco questa impresa molto più grande di noi quella di realizzare una guida al 100% incluse le miriadi di semi Khorogu dannati loro che ci sono in quel gioco e quindi continua oggi mancano le ultime due aree quindi stiamo ormai arrivando gradualmente ma sono sicuro che ci occuperanno almeno un paio di mesi per riuscire a vederla nel dettaglio detto questo quindi ogni mercoledì si cerca di far arrivare una guida per voi oltre questo le puntate della domenica sono quelle in cui mi posso sfiziare un po' di più non arrivano tutte le domeniche ancora una volta la calendarizzazione è sempre tendenzialmente concreta ma poi arriva un imprevisto arriva una settimana di lavoro infinito io non ho tempo di registrare o montare o vedere qualcosa o giocare qualcosa ma la domenica che succede? la domenica chiacchieriamo insieme potremmo parlare di film con che film vediamo stasera e quindi magari un film che ho visto al cinema o un vecchio film o un film relativamente recente che vi voglio consigliare insomma delle sorte di recensioni o di impressioni su quello che è stato quel film per me in alternativa potreste anche trovare delle puntate legate al mondo dei giochi da tavolo e quindi magari delle puntate di tre consigli una rubrica in cui cerco di dare tre consigli per volta su una tematica potete vedere dietro di me alcuni video forse quello più visto di questa categoria che in realtà ancora conta pochissimi video o in alternativa delle video recensioni in questo periodo per esempio stiamo giocando Coimbra proprio per cercare di portarvi una recensione Coimbra della Genos Games da poco c'è stato Between Two Castles e magari alcuni di voi si saranno iscritti proprio a seguito di quel video o ancora una volta potremmo ancora parlare magari di serie tv quindi di qualcosa da vedere sulla televisione una serie tv che mi ha colpito e soprattutto in quel caso cercherò di dettagliarvi proprio un vero e proprio elenco dei motivi per cui io ve la consiglio di cuore o in alternativa potremmo parlare di videogiochi in un modo differente attraverso una puntata di che gioco consigli al momento stiamo lavorando per esempio proprio a un montaggio su Nintendo Lab ancora una volta come vedete le tempistiche non sono così importanti per me Nintendo Lab è uscito da parecchio tutti l'hanno giocato o comunque tutti ne hanno sentito parlare su YouTube ma io lo voglio condividere con voi ecco perché porto queste cose ecco perché magari mi troverete fare una puntata che può essere una volta totalmente poetica filosofica cercando di analizzare tutti i retroscena che ci sono dietro alcuni giochi l'ho fatto anche da relativamente poco parlando di Spec Ops The Line un gioco che mi è stato regato proprio perché un amico ha detto guarda giocalo perché c'è qualcosa di interessante dietro e infatti è nato un grande speciale che mi ha richiesto tantissimo lavoro ma di cui sono molto fiero insomma mi piace molto anche se ancora è uno dei primi in cui cerco di usare quella tipologia di approccio e quindi magari ci sono degli elementi insomma che potrebbero essere migliorati ovviamente come tutto siamo qui anche per questo detto questo ragazzi questo è più o meno quello che troverete sul canale quindi se queste passioni sono anche le vostre passioni io vi invito ad iscrivervi vi invito a lasciare un like in tutti i video che potrete trovare interessanti vi invito a condividerli se volete magari instaurare una discussione con qualcun altro o semplicemente se volete aiutarmi a crescere perché insomma ancora siamo piccolini vi invito anche a consigliarmi qualunque cosa possa stuzzicarvi qualunque gioco possiate volermi vedere portare sul canale sia esso attraverso un let's play sia esso un gioco da tavola e magari una video recensione su un gioco da tavola una video recensione su un videogioco tutto quello che volete volete che parli di film sparate 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 a tal proposito vi ricordo che mi trovate anche su Instagram cercando Gerus Consiglia mi trovate anche su Facebook ancora una volta con la pagina Gerus tutto metto tutti i link ovviamente qui in descrizione e quindi ragazzi che altro dirvi se non grazie per la vostra attenzione spero che quello che tratteremo qui possa stuzzicarvi possa interessarvi e io innanzitutto faccio un'ultima cosa vi ringrazio un'ultima volta per il tempo che avete concesso a questo piccolo canale con questo piccolo video oltre questo spero di leggervi nei commenti e ci si vede la prossima volta ciao bella gente